Da un recente passato calcistico ad un tuffo nella gastronomia nella città di Matera. Cos'è ti ha ispirato questa scelta? È vero, devo dire che è successo tutto molto veloce, anche la mia decisione a dicembre di smettere, di giocare. E poi subito dopo mi è venuto in testa insieme all'amico Franco Danuzzo di fare questa cosa che era un mio sogno, di fare un ristorante proprio tipicamente brasiliano qui in Italia. Siccome qui mi trovo bene, mi sono trovato bene, i bambini in scuola bene, quindi ho deciso di affrontare questa avventura. Quale sarà il piatto tipico di Baraka? Allora, noi saremmo praticamente una churascaria, chiamiamola in Brasile, dove le persone, i clienti entreranno, ci saranno due isole a buffet, una calda e una fredda, dove ci saranno vari antipasti, di cui il riso in bianco, la fagiolata, la farofa, in più anche le verdure grigliate, perché sono tutte cose che mangiamo lì in Brasile e che in un certo modo ci si trova anche qua in Italia. E poi ci sarà il giro di carne, che porteranno il churraschero, i cuochi, che saranno esclusivamente per la carne, quindi questi tagli che verranno portati a tavolo, serviti a tavolo, tagliati direttamente sul piatto. Perché venire in questo nuovo locale? Guarda, l'idea nostra, tutti se ne renderanno conto, è proprio quello che la tipologia è diversa, è un modo diverso di mangiare, è un'altra occasione per provare altre culture, un'altra cultura. Io anche puntiamo molto sull'ambiente, magari chi vuole venire e uscire di quella giornata pesante del lavoro, della scuola o di quello che è la giornata magari un po' pesante, di venire e passare quella un'oretta, due ore con noi, perché puntiamo anche l'atmosfera. Baraka è unico nel Meridione come tipologia di ristorante, un richiamo del Brasile nella città, capitale europea della cultura? Sì, come tipologia credo ora saremo l'unico. Quello non ci fa che piacere, però ci riempie anche di tanta responsabilità. Essendo l'unico in zona, sappiamo che verranno gente anche dei paesi di torno, quindi ci premi solo a fare le cose ancora con più cura.